Io sono stato 25 anni in Calabria, 14 come vescovo di Locri e 11 come prete a Crotone, facendo però anche il cappellano di un carcere. Direi che il film è pregevole perché si interroga e fa pensare. Soprattutto aiuta a capire che il nodo della mafia è prima ancora del problema militare o delle sparatorie, cioè un problema di pensare, di relazioni che nascono all'interno delle case e delle famiglie, per diventare poi relazioni attraverso gli amici, il quartiere, il paese, per trasferirsi poi all'interno della società. Cogliere il nocciolo attraverso la famiglia, il modo di pensare in particolare delle donne, coglie in fondo la radice fondativa del fenomeno mafioso. La grande problematica sta non nel difendersi dalla mafia, ma nel comprendere le ragioni e scavando su di esse riuscire a incidere in una trasformazione che diventa sempre più necessaria. Chiaramente l'aspetto antropologico chiede di essere visto con attenta determinazione. Nessuno si deve aspettare da questo film scene grandi di violenza o di giochi mafiosi o di ricatti che sono diventati classici nei film di mafia, ma deve pensare agli sguardi, al cuore, alle mani, al gioco delle relazioni, agli sfondi tenui ma incisivi di questo film. È un film che vuole capire, che vuole far capire, che vuole spiegare per poter poi insieme, tutti insieme però, combattere le radici del male. L'aspetto antropologico coglie in questo film due volti. Il volto antico di questa Calabria, che per secoli è stata realmente una terra di santi. Ed ecco allora l'esperienza storica che sullo sfondo è rapidamente accennata, ma che diventa un ricordo positivo e bello, quasi come dire dobbiamo tornare a quella immagine. Poi coglie soprattutto il mondo femminile, in un intreccio meraviglioso, fatto anche di passioni, di emozioni fortissime, di violenze, ma vissuto nel cuore di una mamma, di un cuore di una madre, che abbraccia anche i figli uccisi, consapevolmente che lei sapeva che sarebbero stati uccisi. Queste scene femminili straziano il cuore di chi le guarda, ma vogliono essere il modo con cui il filmato può incidere perso le ragazze nelle scuole, in un liceo, in una scuola superiore, in un paese, in una parrocchia. Vuole far capire che il male non è mai neutrale. Vuole far capire alle madri che certe parole non si possono dire, o se si devono dire, si devono dire in positivo. L'elemento femminile poi è doppiamente vincenti e perché prende noi spettatori, e anche voi che lo vedrete, ma soprattutto perché permette realmente di capire, come abbiamo declinato più volte, specialmente alla grande faida mafiosa di San Luca, che se la mafia è opera dei maschi, la faida è opera delle donne. Ecco perché abbiamo proposto come immagine alternativa Santa Rita, e il film ripropone l'antica dinamica positiva dei Santi, che hanno fatto grande la Calabria come terra di Oriente, carica di valori, di agricoltura, di cultura, di biblioteche, di codice come quello di Rossano, grande, finalmente, ma oggi va rivissuta in pienezza. Dobbiamo tornare a quella immagine. Il valore del film è appunto questo, non narra una semplice guerra di mafia, che ne sono state tra tanti, troppi, narra la genesi interiore della faida, che come dicevo è soprattutto femminile, ma poi diventa ovviamente maschile, generalizzata. È come narrare giustamente una guerra civile, in un paese che ho visto tremendamente devastato da una faida, che ha fatto 40 morti in alcuni anni, addirittura hanno ucciso due persone al ritorno dal funerale, di altre due persone al ritorno, hanno trovato due cadaveri nelle case. È stata una cosa devastante. Oggi cos'è rimasto? Praticamente i ruderi di questa guerra, poche donne arrabbiate, che sono costrette a vivere a ottantenni, a 100-200 metri dalla casa, che ha ucciso i loro figli vicendevolmente. Vi immaginate la rabbia di queste donne? Io le ho incontrate. Rimangono dei spezzoni di dolore infinito. La guerra civile non salva nessuno. Ecco il significato dell'esperienza del film. Vuole in fondo dire o ci si ferma, o rimaniamo devastati tutti. E chi può fermare è chi accende, cioè il cuore della mamma. Il cuore della mamma può essere la scintilla che devasta e incendia, o può essere il balsamo d'amore che risana e perdona. Per tutto quello che abbiamo detto, c'è un evento che strappa il cuore. Più di quello che la madre che abbraccia un figlio ucciso, c'è una scena che farà discutere a lungo, in maniera immensa, dolorosamente travolgente, che è la scena in cui il magistrato strappa per legge il figlio a una mamma pur di non vederlo coinvolto nella faida che viene intuita come prossima. Ecco, la scena, io credo, sono convinto che avrà reazioni opposte. Forse, mi permetto di classificarla così, la duplice reazione. Fuori dalla Calabria avrà il plauso. In Calabria sarà capita con molta, molta, molta fatica, perché il cuore dei calabresi non può essere privato dei propri figli. Strappato per salvarlo o lasciato per lasciarlo uccidere. Ecco, il dilemma resta. E forse è bello che resti il dilemma. Che faccia però discutere. Il figlio, infatti, non dà soluzioni. Giustamente. Ma vuole offrire opportunità di riflessione. Sarà il dibattito successivo che dirà di sala in sala chi e come porsi davanti a questa soluzione. Certamente però va detto una cosa che è un gesto estremo per una situazione estrema. Per questo motivo a mali estremi, estremi rimedi è bello che sia stato presentato come una soluzione che magari a lungo andare oltre all'emotività del momento può essere presentato come una risposta. Ma soprattutto nell'insieme. Io mi permetto di dire un gratis alla Calabria perché mi ha aiutato a capire un'immensità di cose. Merito di quel versetto paolino che forse qui riassume tutto il dibattito. Romani 5,20 Paolo dice dove abbonda il peccato sovrabbonda la grazia. Ecco proprio dentro questa immensità di problemi scopri che c'è una forza incredibile negli stessi problemi dalle stesse persone che soffrono per risolvere con la forza che loro viene dalla storia e dalla tradizione e dalla fede che è radicata in Calabria la forza per vincere il dramma dove abbonda il peccato sovrabbonda la grazia. Così va letto il film in tutto il suo straordinario volgersi ed avvolgerci. Grazie.